Dopo oltre un mese di stop riprende il cammino dell'Olimpia agnonese, la cui ultima apparizione risale al quarto pareggio stagionale ottenuto nel derby del Ditella lo scorso 21 marzo. Al Civitele si presenta il Pineto di Pomante, avversario scorbutico, che sta risalendo gradualmente la classifica. Ricordiamo gara appartenente al programma dell'undicesima d'andata. Arbitra il signor Matina della sezione di Palermo. A dire la prima, sono gli abruzzesi, i minincleri non cogli i risultati del suo tiro dopo il regalo del terzino avversario Bartoli. Caputo riesce a bloccare, i Granata pungono alla prima vera occasione, Bartoli dalla destra per Barbato, piattone destro di potenza e precisione. Nulla da fare per Mercorelli, 1-0 per l'Olimpia agnonese che ne approfitta per tallonare gli ospiti. Amaia illumina Tankulic, non è una cattiva idea, peccato per l'esito dell'azione. Buon momento per i locali che al ventunesimo manovrano con Tankulic, Amaia fa capolino sul secondo palo. Disimpegno ordinario per Mercorelli, non sta a guardare il Pineto che è sul cambio di fronte con Minnozzi all'interno dei 16 metri. fa tremare la traversa, caputo battuto. Il pari ha soltanto rimandato di un minuto, Minincleri, la carezza per Minnozzi, il cui destro clinico. Centra l'angolino per il gol dell'1-1. Alla mezz'ora agnonese il cross è per Amaia che interviene in maniera scomposta, a giudizio del direttore di gara che fischia il fallo in attacco. Di nuovo minacciosi gli uomini di Pomante al 38esimo, corner dalla destra, Minincleri. Salvatori non ci arriva per questione di centimetri. Con un gol per tempo le due squadre raggiungono l'intervallo. Al lavoro in regia Antonio Di Perna siamo all'ottavo della ripresa. Granata offensivi con il terzino da costa e il suo diagonale, privo di un epilogo eccellente. Minuto seguente i padroni di casa non sfruttano efficacemente una ripartenza. Barbato vede ben assestato Sapone che non imprime forza e la consegna al portiere bianco celeste. 23esimo protesta all'Olimpia agnonese che chiede la massima punizione per un intervento ai danni di Tankulic. Matina facendo che si può proseguire. Trascorrono tre minuti, calcio piazzato dalla tre quarti per l'agnonese. Se ne incarica da costa, pallone alto sopra la traversa. Cresce il team di Mister Di Rosa, lancio di Nicolopulo, Samaya. Eccellente stop a seguire che gli comporta però l'allungamento del pallone. Mercorelli si oppone alla conclusione. Il Pineto si riaffaccia dalle parti di Caputo intorno al 36esimo. Calcio da fermo di Bugaro, sfera che non sembra subire deviazioni. Matina assegna comunque il tiro dalla bandierina. Non succede più nulla di rilevante fino al triplice fischio. Un punto per parte. Olimpia agnonese domenica contro la Vastese alle Civitelle. Il Pineto invece deve preparare l'assalto prima al campo basso e poi al notaresco, rispettivamente prima e seconda della classe.